La soletta protettrice Soft Pressing diminuisce la temperatura della superficie della piastra, mantenendo sempre l'interruttore del termostato in posizione 3. Deve essere utilizzata per stirare i tessuti delicati e i tessuti scuri. Con la soffieria e la soletta Soft Pressing, stirare la lana ad una distanza di 3-4 cm per permetterle di riprendere il suo volume originale. La soffieria e la soffieria